Salvatore d'Italia, ma rischiava realmente di saltare il campo scout San Giorgio che ogni anno si svolge a Gela? Avendo chiesto l'autorizzazione all'azienda forestale ufficio di Caltanissetta, l'abbiamo chiesto il 26, da loro ho ricevuto il 29 febbraio, ci telefonano, ma solo dopo varie telefonate che avevamo fatto dove non si trovava mai nessuno, abbiamo mandato un nostro emissario da Caltanissetta e ci telefonano il 21, cioè il giorno prima dell'arrivo dei nostri lì, venerdì 22, per dirci alle 12.15 che l'autorizzazione era pronta e che dovevamo andarla a ritirare a Caltanissetta. A distanza quasi di due mesi dalla vostra richiesta. Quando noi abbiamo detto, ma guardi che noi l'abbiamo mandata per posta con ricevuta in ritorno, anche voi potevate, e poi abbiamo fornito una nostra PEC di sezione, che è come se fosse una posta certificata, ci hanno risposto no, personalmente, e se non vi sbrigate noi chiudiamo perché poi non lavoriamo più venerdì, sabato e domenica e lunedì. Il campo poi si è svolto regolarmente alla Rafforosso, ma avete trovato problemi non indifferenti? Abbiamo trovato una distruzione immensa perché la zona sembra aperta a tutti senza certe volte custodia e quindi c'era da rabbrivedire. Dopodiché ci siamo trovati senza acqua. Ufficiosamente qualche custode ci ha detto che avevano rubato i cavi di rame delle pompe e che non potevano riempire i serbatoi. Però noi abbiamo detto che un ufficio pubblico che si rispetti doveva far arrivare delle autobotti almeno, perché lì, oltre agli scout, il 24 e il 25, sono arrivati da tutte le zone circostante, da Gela, da San Michele di Canzaria, da Mazzarino, per passare due giorni di vacanza in mezzo ai boschi. Abbiamo dovuto comprare noi 10.000 litri di acqua per riempire le vasche e far arrivare l'acqua alle fondanelle per noi e per gli altri e soprattutto per i gabinetti perché rischiavamo veramente un default. Abbiamo dovuto noi rastrellare tutte le ramaglie nei boschi sotto gli alberi e portarli vicino ai focolari sia per noi che per la gente che è venuta. Quando lei si riferisce agli enti pubblici, il riferimento è agli enti pubblici di Caltanissetta? L'ufficio è quello di Caltanissetta, Regione Siciliana, ufficio domeniale di Caltanissetta. E non capiamo il perché. E non è la prima volta. Precedentemente abbiamo fatto anche altre richieste di autorizzazione che non ci sono completamente pervenute. Cioè noi siamo andati alla ricerca di un posto alternativo alla vigilia sempre della partenza dei ragazzi. E non si può. E' un'associazione con centinaia di ragazzi la nostra. E i ragazzi non si toccano, i ragazzi hanno bisogno di questi palmoni verdi.